Eccoci alla sosta da Cancelletto, vedete che qui praticamente questi tratti di strada in questa stagione sono ovviamente chiusi per evitare che salga qualcuno in macchia. Vai Stefano! Sì, sì, è un po' rello. Continuiamo la salita tra i tratti un pochino elevati. All'ombra, i tratti più al sole, pedalabili come questo, qui le pendenze medie sono decisamente più errate, quindi leggiamo di 10-12% salita, quindi è fondamentale riuscire a trovare il fondo migliore e neanche il ritmo migliore per la salita.